Abbiamo dei testimoni che affermano di aver visto lei e Corrigan al momento del dirottamento. La mia squadra non ha dubbi, abbiamo trovato D.B. Cooper. Abbiamo più di cento prove che lo confermano. Abbiamo a che fare con un uomo che ha molteplici identità ed è un artista della truffa. Sono qui perché voglio la verità. E se deve far male, farà male. Questo caso è una maratona, è un sacrificio, è una sfida. Mette in discussione la tua sanità mentale. Ti costringe a credere veramente nell'impossibile.